Eccoci qua, ben ritrovati amici di Retta 7, amici del Nord Ovest. Cosa sta accadendo? Beh, avremo una bella, per fortuna, rinfrescata che durerà circa tre giorni, poi le temperature torneranno ad aumentare, quindi avremo una nuova ondata di caldo intenso negli ultimi giorni di luglio e nella prima settimana di agosto. Solo i settori alpini potranno avere dei disturbi come al solito pomeridiani, ma intanto vediamo come si aprirà questa nuova settimana. L'insegna proprio al primo mattino dell'instabilità, quindi dei rovesci di pioggia e temporali che dai settori più occidentali, anche quindi su zone di pianura del Piemonte, tenderanno, e non solo ovviamente quindi su zone alpine e prealpine, tenderanno però velocemente a portarsi verso la Lombardia e quindi i fenomeni insisteranno, quelli più intensi e convinti, sulla Lombardia nella seconda parte del giorno. Di contro aumenteranno le schiarite e quindi avremo delle ampie aperture del cielo. vedete tra la Val d'Aosta e il Piemonte e la Liguria di Levante. Dal punto di vista termico, come detto, temperature in calo nei valori minimi, ma soprattutto nei valori massimi, con temperature massime decisamente sopportabili. Io mi fermo qui, vi auguro di trascorrere un buon inizio di settimana. Io mi fermo qui, vi auguro di trascorrere un buon inizio di settimana. Io mi fermo qui, vi auguro di trascorrere un buon inizio di settimana. Grazie a tutti.